16 appuntamenti che spaziano dal teatro al cinema, dalla musica all'opera. Per quattro mesi il nuovo di Viale dei Mille a Varese sarà insieme fucine, palcoscenico, cabina regia e trampolino, di un modo di intendere l'arte espressiva, dinamico, intraprendente, inclusivo e sinergico. Varese Live vuole essere un nuovo progetto per rilanciare all'interno di questo spazio meraviglioso che è il Cinema Teatro Nuovo, una nuova vita per lo spettacolo dal vivo, ne abbiamo tanto bisogno perché dopo due anni di pandemia ci siamo un pochino spenti e quindi il vivo, essere dal vivo, fare musica, fare teatro, ci sarà anche il cinema, ci sarà anche l'opera barocca che è l'assoluta novità, vuol dire in qualche modo rimetterci in vita, ecco perché si chiama ReLive la rassegna e perché vogliamo che tutti gli spettatori ritornino in massa a teatro perché è una grande possibilità di ricominciare a vivere la nostra socialità. L'iniziativa ReLive vede fianco a fianco Film Studio 90, giorni dispari, associazione Mani e si propone di alzare ulteriormente l'asticella delle proprie ambizioni, mettendo a punto la prima opera barocca prodotta a Varese in collaborazione con l'orchestra Canova del maestro Pagano. Varese ha un gran bisogno di proposte di qualità per cui crediamo che il Cinema Teatro Nuovo debba ritrovare lo spazio che aveva anche all'inizio della sua attività negli anni 50 e 60 quando era un punto di riferimento obbligato anche per gli spettacoli teatrali e musicali. Io credo che sia giunto questo momento e ci stiamo attrezzando nonostante tutte le difficoltà che ci sono in questo periodo per rilanciare anche lo spettacolo del vivo al Cinema Teatro Nuovo. Partner economico dell'operazione la Banca BCC di Bustogarolfo e Bugugiate è veramente attenta e sensibile all'impresa della creatività. In un territorio che ha molto bisogno di cooperazione e soprattutto di vicinanza di tutti. Credo che sia un settore particolarmente colpito ma abbia bisogno veramente di riscatto e far crescere la cultura in una città importantissima storicamente.